La Fiction Squadra Antimafia 5 è giunta alla nona e penultima puntata della quinta serie. Il prossimo appuntamento è quindi per lunedì 11 novembre, sempre su canale 5, e vedrà l'entrata in scena della mafia sovietica. Un boss russo contatterà Veronica Colombo per entrare nell'affare che la donna sta portando avanti con Achille Ferro. Calcaterra invece sarà sempre più in contrasto con Lara Colombo dal momento che il vicequestore dell'antimafia di Catania continuerà a pensare che la sorella sia del tutto innocente, mentre Calcaterra è ancora convinto di poterla incastrare e arrestarla al più presto. Il commissario Calcaterra interpretato da Marco Bocci infine, quando avvisterà i russi, entrerà in azione senza avvertire la collega Lara Colombo. Grazie a tutti.